Buongiorno a tutti, sono Giorgio Guglieri, sono un professore del Politecnico di Torino, un appassionato di volo e da tanti anni mi occupo di velivoli senza pilota, del volo autonomo, nello specifico collaboro con università, centri di ricerca, aziende italiane e straniere in questo specifico settore. Cercherò oggi di accompagnarvi in questa presentazione che cercherò di darvi una visione un po' di insieme su questa tematica di grande interesse anche dal punto di vista mediatico. L'intervento di oggi è un intervento dedicato al volo senza pilota a bordo e all'evoluzione, alle prospettive per l'aeronautica civile e militare. In termini più generali cercheremo di tracciare un breve quadro dell'insieme di quel mondo dell'aeronautica che fa riferimento agli aeromobili a pilotaggio remoto. Mi sono occupato negli ultimi vent'anni di volo autonomo e di velivoli a Mened senza pilota. Ho svolto attività di ricerca in Italia e all'estero con istituzioni e aziende del settore aeronautico, nello specifico in questo settore aerospaziale. Un quadro dei contenuti della presentazione, una definizione del contesto, qualche riferimento anche agli acronimi e alle definizioni aeronautiche, una breve storia del volo autonomo, un quadro dell'applicazione dei casi di utilizzo in campo civile, che è il campo di maggior interesse, almeno dal mio punto di vista, i punti di forza e debolezza che in qualche modo connotano questo settore aerospaziale e poi qualche conclusione e le prospettive future. Allora, i velivoli o più in generale gli aeromobili senza pilota sono noti con il termine inglese a Mened e Real Vehicles, UAV, e rappresentano un settore in fortissima crescita del comparto aeronautico, sia quello civile che quello militare. Il settore militare, vedremo, è stato quello che ha svolto un'azione trainante nei confronti degli sviluppi del settore civile, che in qualche modo sono sfasati temporalmente rispetto a quelli militari. Nello specifico, per quel che riguarda le tecnologie che in qualche modo hanno ravvivato e potenziato lo sviluppo del settore specifico, chiaramente le tecnologie dell'automazione, della robotica, l'intelligenza artificiale in tempi più recenti, l'utilizzo dei sistemi di posizionamento globale, dove l'acquisizione della posizione nei riferimenti di navigazione avviene attraverso una rete satellitare, e solo per citare alcuni aspetti, la miniaturizzazione dei componenti elettronici che hanno permesso di fare un salto di qualità negli ultimi anni, proprio nella direzione di sviluppare velivoli autonomi anche accessibili al settore civile. Non c'è praticamente tipologia di aeromobile per la quale non sia stata realizzata una versione senza pilota, dalla grande scala alle soluzioni miniaturizzate, monomotori, plurimotore, a dalla fissa, cioè velivoli come gli aeroplani convenzionali, a dalla rotante, quindi elicotteri, multicotteri e configurazioni quindi rotoriche in generale, configurazione di geometria ibrida, quindi soluzioni quali convertiplani ad esempio, soluzioni a getto ad elica, a propulsione elettrica con propulsione a scoppio e non dimentichiamoci anche le architetture più leggere dell'aria, quali soluzioni aerostatiche o dirigibili in genere. Tante soluzioni diverse se hanno un denominatore comune, perlomeno il driver per il caso, cioè la spinta per il settore militare è stato quello di sostituire l'uomo in quelle missioni che ricadono nelle 3D, dull, dirty and dangerous, quindi noiose, sporche e pericolose, cioè in qualche modo rimpiazzare nello scenario tattico militare, l'uomo quando è possibile utilizzare un velivolo senza pilota per svolgere queste missioni di supporto alle truppe che in qualche modo sono, ricadono in questa categoria, soprattutto il termine dangerous, limitare l'esposizione ai rischi del personale militare. Nel settore civile ci sono finalità fine ma chiaramente la possibilità di svolgere delle missioni in maniera sicura e sostenibile economicamente è un aspetto fondamentale, quindi sostituire l'uomo per esempio, qui faccio due esempi di interesse industriale, nella dispersione di fitofarmaci su una coltura o sostituire l'uomo nell'acquisizione di immagini o nella prospezione di un impianto chimico è evidentemente una prospettiva che è nella direzione di aumentare la sicurezza delle operazioni e sostituire altri strumenti più costosi. Non ultimo l'aviazione convenzionale che rispetto a questa nuova aviazione si caratterizza per maggiori costi operativi. È nata così una nuova economia, questo perlomeno nel settore civile, basato proprio sullo sfruttamento degli aeromobili a pilotaggio remoto, come vengono anche chiamati nella letteratura tecnica. Queste applicazioni in qualche modo hanno interessato i settori più vari di interesse sociale ed economico, dalla fotogrammetria, cioè dall'acquisizione di immagini per la ricostruzione di modelli geometrici di edifici o forme del territorio, l'agricoltura di precisione, il trasporto di materiale, tra l'altro anche quello sanitario, la consegna postale, il telerilevamento, cioè il telerilevamento e l'acquisizione di dati attraverso sensori distribuiti e la sorveglianza. E infine le implementazioni che oramai sono vicine per quelle che sono le cosiddette smart city, le città intelligenti, che sono intese come aree urbane a forte connessione digitale. Da un punto di vista economico il settore militare dei droni, come vengono anche impropriamente definiti questi aeromobili, prevede dal 2016 al 2024 una crescita annuale del mercato quantificabile intorno al 10-12%, quindi un tasso di crescita interessante per un comparto industriale con un turnover che passa dai 5 ai 13 miliardi di dollari come interesse dal punto di vista del volumi di attività fatturabili. Per il settore civile il quadro è ancora più interessante perché il tasso di crescita è dell'ordine del 20%, così almeno come viene stimato sullo stesso periodo dal 2018 al 2024 e il volume ed affari passa dai 14 ai 43 miliardi di dollari, almeno nelle stime. Interessante far notare la concentrazione di questi mercati su tre aree geografiche, Nord America, l'Europa e l'Estremo Oriente come aree di concentrazione tecnologica e industriale del settore, sia civile che militare. Una classificazione dal punto di vista delle missioni e delle dimensioni di questi aeromobili di fatto dipende dalla distanza percorribile durante la missione, il cosiddetto range, e dalle quote di utilizzo. Più è grande la distanza, più è grande la quota, più è grande il mezzo che viene utilizzato per la missione. Il settore centrale, quello indicato nell'intorno dell'origine, che interessa le architetture micro e mini, è orientativamente compreso nelle masse al decollo fino a 25 kg. Ecco, questo è il settore che maggiormente interessa gli sviluppi del settore civile, mentre man mano che le dimensioni aumentano sempre di più si coinvolge il settore di interesse militare, proprio per la capacità di utilizzare mezzi con coperture di distanze e inviluppi di quota superiori. Un po' di definizioni, queste sono tutte sigle che sono equivalenti da un punto di vista dell'utilizzo, almeno in linea di principio. Impropriamente i velivoli autonomi, gli aeromobili senza pilota a bordo, vengono chiamati droni, anche se questa è una definizione che storicamente si attribuiva ai radiobersagli in aeronautica, ma tutta una serie di acronimi si sono introdotti e la normativa li definisce come remotely piloted aircraft system italiano, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Quindi questa è la definizione più corretta che attualmente si utilizza. Tutte le altre definizioni sopravvivono e sono comunemente utilizzate in alternativa. Un po' di storia, gli austriaci a metà dell'Ottocento si inventarono un sistema aerostatico senza sistema di guida o con una minima capacità di guida in funzione dell'orientamento del vento e lo utilizzavano per rilasciare dell'armamento di caduta. Fu utilizzato tra l'altro con scarso successo per un attacco sulla città di Venezia. Intorno all'inizio del Novecento i fratelli Breguet, che sono fra i pionieri dell'aeronautica moderna, hanno inventato tra le varie cose un aeromobile dalla rotante multirotorico, che è l'antesignano dei moderni quadricotteri. Tutti questi sono degli assaggi di invenzione che fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale non prendono forma in soluzioni veramente caratterizzabili come un aeromobile senza pilota. E qui gli inglesi sviluppano intorno al 1916 un grosso aeromodello scalato utilizzabile come bersaglio per finalità militari radiocomandato, con dei radiocomandi che chiaramente erano dei sistemi di guida via radio molto semplificati. Finita la Prima Guerra Mondiale, fra le due guerre un po' tutti gli ambiti militari cominciano a lavorare sugli aeromobili radiocomandati. Qui di autonomia non se ne parla, di fatto questi aeromobili venivano pilotati da terra con radiocomando più o meno sofisticato e quindi operavano sotto la guida di un pilota remoto che altro non era che un operatore di un radiocomando. Le missioni erano solitamente missioni di sorveglianza oppure questi aeromodelli, questi grossi aeromodelli fungevano da bersagli sia per esercizi legati alla radionavigazione, sia anche per il tiro di interesse militare balistico. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale, gli inglesi sviluppano dei veri e propri aeromobili radiocomandati a guida remota e qui Winston Churchill che assiste proprio al varo di un idrovolante della de Aviland che veniva radiocomandato e veniva usato per addestramento militare nel senso che serviva da bersaglio sia per il tiro che per il traguardo dai sistemi radar. I tedeschi sviluppano il primo vero e proprio aeromobile autonomo nel contesto in cui definiamo un aeromobile autonomo, un aeromobile senza un'interazione con l'uomo a terra e in questo caso la V1, il Fiseler 103 è proprio l'esempio, l'antesegnano di questa famiglia di aeromobili dotato di un rudimentale sistema di guida autonoma propulso da un pulso reattore effettuava di fatto una missione completamente autonoma che terminava con la caduta a terra e l'esplosione dell'armamento. Finita la guerra, inizia la guerra fredda, l'esigenza è quella di sviluppare degli aeromobili autonomi per la ricognizione e l'acquisizione di immagini e filmati sul territorio ostile. Questo tipo di sviluppi porta a sviluppare tutta una famiglia di aeromobili radiocomandati dove il raggio di radiocomando è un raggio importante, a notevole distanza dall'operatore e permettono di condurre tutta una serie di missioni che portano all'acquisizione di informazioni che sono di fatto anche valide dal punto di vista tattico e strategico in uno scenario militare. Sempre in quegli anni si sviluppano delle soluzioni semiautonome per il supporto alle operazioni di fanteria e artiglieria. Questo tipo di aeromobili molto complessi e pesanti con una ridotta flessibilità di programmazione sono dei ricognitori di breve raggio che servivano appunto per la messa a punto delle azioni dell'infanteria da una parte e anche per il tiro delle armi d'artiglieria. Qui un esempio delle forze armate inglesi. Metà degli anni Sessanta compare su ampia scala la produzione dei transistor e l'elettronica permette finalmente di sviluppare dei radiocomandi sufficientemente miniaturizzati ed economici. Nasce l'aeromodellismo moderno e questo permette di affiancare per finalità assolutamente diverse da quella militare tutta una serie di prodotti distribuiti su ampia scala dal punto di vista commerciale che sono radiocomandati e questo è un potenziamento di un settore industriale che è di servizio poi vedremo allo sviluppo degli armobili a guida autonoma. Facciamo un salto di molti anni e giungiamo all'inizio degli anni 2000. Oramai l'aeronautica matura delle soluzioni quasi completamente autonome con una sopervisione da terra che è legata alla gestione delle missioni da un punto di vista macroscopico ma è comunque sempre presente e si sviluppano anche piattaforme che non solo sono piattaforme di sorveglianza ma sono anche piattaforme militari offensive quindi con un armamento imbarcato. A terra è presente, questa è un'altra soluzione che riguarda l'MQ-9 Reaper, parente del precedente, della postazione a terra di comando dove c'è un pilota di backup che di fatto è un operatore delle sequenze di volo e dall'altra uno specialista dei sensori a bordo che quindi gestisce il carico pagante e tutte le informazioni che dal segmento di volo arrivano a terra. A metà degli anni 2010 la logistica si accorge dei droni. La logistica è il settore della distribuzione, delle consegne e delle vendite e comincia a pensare a soluzioni in parte avveniristiche, in parte fattibili, che utilizzano come segmento di trasporto, quindi come alternativa ai classici mezzi logistici, il drone. E qui Amazon è un precursore ma anche altri del settore hanno lavorato in maniera estremamente convinta su questo tipo di applicazioni. Nella fine degli anni 2010 la riduzione dei costi dell'elettronica digitale e della sensoristica permette finalmente di sviluppare dei multirotori controllabili in maniera efficace. Fino a quel momento queste piattaforme avevano delle limitazioni sulla loro capacità di controllo in volo. Questo salto di qualità forza una distribuzione commerciale pesante di queste soluzioni con architetture fra loro anche diverse e un esempio fra tutti è il DJI Phantom che è uno degli esempi più di successo che sono stati ampiamente utilizzati nel settore civile per le più varie finalità. La prospettiva di una crescita industriale e i campi di applicazione dei sistemi robobili a pilotaggio remoto si rafforzano, come ho già detto, anche in vista dello sviluppo della città intelligente dove sono parte dell'infrastruttura di telecomunicazione ma sono anche parte dell'infrastruttura logistica della città digitale. Il settore militare spinge non solo verso la grande scala ma anche verso la miniaturizzazione e qui si realizzano delle soluzioni che sono soluzioni anche veramente ridotte all'osso in termini di dimensione che permettono di svolgere delle azioni di ricognizione a supporto del personale militare anche in ambiente chiuso quindi in condizioni particolarmente complesse. I casi di utilizzo Il caso più semplice nel settore anche civile è quello della ricognizione a breve raggio il drone decolla, sorvola una certa area, fornisce delle informazioni che possono essere fotografie, immagini o acquisizioni da sensori e poi ritorna a terra e queste informazioni vengono utilizzate da un operatore per le più diverse finalità. La ricognizione può diventare a medio raggio, quindi a distanza maggiore e qui per esempio la soluzione con pannelli fotovoltaici permette di estendere l'autonomia del velivolo o della piattaforma sfruttando proprio la produzione di energia a bordo. Soluzioni sempre a medio raggio per il telerilevamento vengono utilizzate, questo è un esempio per l'agricoltura di precisione. Questo è un drone che imbarca un sensore multispettrale e viene utilizzato per acquisire informazioni utilizzate per la produzione vitivinicola. La ricognizione delle linee elettriche e i rilievi fotogrammetrici, questa è un'altra applicazione molto importante. La ricognizione delle linee elettriche viene fatta tradizionalmente da degli operatori che si espongono a notevoli rischi come visibile da questa immagine e può essere brillantemente sostituita per lo meno per l'acquisizione dello stato dell'impianto e per la ricostruzione della forma della rete e quindi la parte fotogrammetrica da un sistema aeromobile a pilotaggio remoto. In maniera del tutto simile la ricognizione delle infrastrutture che permette di ricostruire lo stato di salute di un'infrastruttura civile, quale può essere sì una rete elettrica ma anche un edificio o un qualunque tipo di infrastruttura quali possono essere ponti, dighe e quant'altro. Questo tipo di rilievi hanno una valenza importantissima soprattutto nella valutazione dello stato di manutenzione e conservazione delle infrastrutture di interesse civile. Monitoraggio dello stato di salute, per esempio degli impianti fotovoltaici, quando uno dei pannelli è in deficit funzionale, un sensore termografico può identificare lo scadimento funzionale in maniera molto diretta, dando un'indicazione su quello che è il pannello da sostituire e da rendere nuovamente operativo. L'acquisizione della forma degli edifici è quindi basata sulla scansione non più fotografica ma attraverso sensori laser quali i LiDAR, permette di ricostruire dei modelli tridimensionali di grandissima precisione addirittura pari al centimetro in alcuni casi e questo è l'esempio fornito da questa azienda per l'abbazia di Monte Cassino. Questo modello è un modello tridimensionale di grande dettaglio che può essere usato da architetti e specialisti per costruire lo stato di conservazione di edifici anche con una notevole complessità di tipo di architettura e anche di valutarne lo stato di conservazione e gli eventuali interventi richiesti. Ugualmente valutano anche la forma del territorio e quindi queste tecniche, sempre l'acquisizione tramite laser e sistema LiDAR, permette di fare dei rilievi ambientali molto accurati. Qui ad esempio una valutazione di tipo idrogeologico, lo stato di salute del fiume visto come effetto sulla forma della riva del fiume, gli argini e lo stato della vegetazione che può essere valutato a distanza di tempo per valutare se interventi dell'uomo hanno alterato qualcosa o se per effetto delle piene qualche cosa è stato alterato in maniera negativa. Per l'agricoltura l'utilizzo del drone fornisce la possibilità di acquisire, ad esempio, questo è un caso in Risaia, questa è un'area complessivamente pari a 100 ettari acquisita durante un'attività di un giorno, di otto ore lavorative, di acquisire i segnali multispettrali che sono associati con la riflessione delle foglie con l'emissione nel campo infrarosso e permettono di definire se la pianta ha ricevuto sufficiente nutrimento, quindi se la concimazione è stata efficace. Le aree a bassa concimazione vengono corrette durante la dispersione da trattore con il sistema di posizionamento GPS permettendo di nutrire in maniera più efficace le aree sofferenti e di ridurre la concimazione sulle aree più floride. I vantaggi sono un risparmio quantificabile intorno al 10% in termini di concime utilizzato sulla agricoltura estensiva. Videoriprese di livei fotografici, questo è il campo che tutti conosciamo, è un campo ben noto, oramai in tutti i servizi televisivi e in moltissimi casi ci si avvale del drone per acquisire fotografie, immagini e videoriprese viste dall'alto. L'advance dei real mobility o la mobilità aerea avanzata è ancora un nuovo settore in cui si spinge verso applicazioni molto più specifiche, io qui ne cito due, una è il trasporto a servizio del sistema sanitario, quindi farmaci, campioni biologici, comprese le sacche di plasma o di sangue e addirittura qualcuno comincia a pensare agli organi. Sempre in questo segmento un po' innovativo dell'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto si parla del trasporto persona a breve e medio raggio, quindi del servizio di aerotaxi basati su soluzioni innovative di questa categoria. Quali sono i punti di forza un po' dello sviluppo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, perlomeno nel settore civile? Beh, innanzitutto sono economici e facili da schierare rispetto agli strumenti dell'aviazione convenzionale, quindi c'è una certa economia a fronte anche di soluzioni con scale diverse. Volano in aree in cui sarebbe difficile o impossibile accedere per altra via, quindi permettono di eseguire missioni nuove e missioni non fattibili con gli altri strumenti dell'aviazione. Permettono di limitare i rischi in ambienti industriali critici, rischi che possono essere rischi legati al tipo di lavoro svolto, pensiamo alla ricognizione fisica degli impianti elettrici, il rischio di folgorazione, il rischio di operare in ambienti con sostanze tossiche, la radiazione, l'esposizione a radiazioni o anche il rischio biologico. Sono strumenti tecnologici nuovi per le aziende e anche per gli enti pubblici che li utilizzano e aprono tutta una nuova prospettiva di servizi fino ad oggi impensati. Rappresentano un nuovo mercato, un mercato in espansione, che spinge da un lato la diversificazione dell'applicazione, quindi da un lato la diversificazione tecnologica spinge i nuovi servizi che a loro volta, attraverso la consapevolezza dei clienti, forza un meccanismo duale di diversificazione delle applicazioni. Questi sistemi offrono accuratezza per l'acquisizione di dati e immagini rispetto al segmento aeronautico classico, all'aereo, all'elicottero, rispetto al satellite, sono in grado di acquisire dati puntuali molto precisi. Sono anche distribuiti per l'uso ricreativo, quindi permettono anche al cittadino di avvalersi di questa tecnologia per fotografie e videoriprese. I concetti dell'Advanced Aerial Mobility, quindi della mobilità aerea avanzata, pensano anche al trasporto merci alle persone e questo apre una nuova prospettiva dal punto di vista logistico. Un po' di difficoltà ci sono, non tutti amano vedere volare vicino a sé i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, i droni, c'è ancora un po' un problema di accettazione da parte dell'opinione pubblica che forse nasce anche in parte dalla confusione fra finalità civili e militari. Possono causare danni a cose e persone perché di fatto durante un crash possono ferire o anche essere offensivi per l'uomo. Si pongono dei problemi di privacy e riservatezza perché durante il volo si possono acquisire immagini che possono impattare da questo punto di vista legate a questi temi. Sono sistemi ancora vulnerabili dal punto di vista hardware e software, quindi non è ancora ben definita una certificazione che permetta di sviluppare dei sistemi elettronici di bordo sufficientemente robusti al pari dei segmenti aeronautici dell'aviazione civile. È un percorso ancora in evoluzione. Sono esposti a rischio di hacking e spoofing, cioè di azioni ostili che in qualche modo vadano a prendere il controllo del mezzo in maniera malevola. Sono influenzati nel volo dalle condizioni meteorologiche, quindi non possono volare comunque indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. In particolare la pioggia e la neve sono abbastanza importanti come limitazioni. La legislazione che li regolamenta è ancora in evoluzione e questo crea una notevole incertezza di mercato. La connettività per il trasferimento dei dati a terra e da terra è abbastanza limitata e ancora questo è un aspetto che si sta evolvendo probabilmente con le reti 5G e le connessioni satellitari in parte verrà aggirato. Le tecnologie abilitanti e gli sviluppi industriali sono complessi e costosi. È ancora costoso sviluppare i sistemi aeromobili a pilotaggio a remoto perché il mercato è un mercato in espansione e non ha ancora dei numeri che giustifichino in maniera indiscriminata un investimento in ricerca e sviluppo che richiede ancora un costo non trascurabile. Giusto per citare uno degli aspetti questi sono crash test condotti su un manichino strumentato con un simulacro di un drone per verificare gli effetti di impatto in caso di crash a terra. Che ci dobbiamo aspettare? Beh ci dobbiamo aspettare che nel nostro futuro questi sistemi siano sempre di più parte della nostra vita. Saranno parte dei sistemi che in qualche modo saranno integrati nelle nostre città. Il soccorso per esempio il trasporto di un defibrillatore, l'intervento del personale di soccorso può essere in qualche modo coordinato con un sistema di questo genere così come il trasporto a breve e medio raggio può essere gestito da un aerotaxi autonomo. Il trasporto di merci o di carichi in generale può anche essere pensato attraverso questi sistemi. E anche il mondo militare non sta a guardare e mentre fino ad oggi ha pensato soprattutto a soluzioni legate alla ricognizione e alla sorveglianza comincia a pensare ampiamente a soluzioni offensive che rimpiazzino l'uomo a bordo ampliando gli inviluppi di interesse del settore militare. Chiudo qui il mio intervento e vi lascio a un breve filmato che cerca di riassumere un po' di applicazioni di interesse. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.